Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è venuto in visita al Parlamento europeo a parlare della solita aria fritta, le solite chiacchiere di chi fa finta di non vedere la tragica realtà che ogni giorno vivono milioni di italiani. Una realtà fatta di crisi economica, di disoccupazione, di tasse sempre più alte, nella totale assenza di risposte da parte di uno Stato, quello italiano, che ormai non funziona più e che è sull'orlo del fallimento. Di fronte a questo scenario drammatico, cosa fa Giorgio Napolitano? Viene qui a Strasburgo a raccontarci quanto belli sono l'Europa e l'Euro e a prendersi gli applausi dei suoi compagni di merende europei, che sono i maggiori responsabili della crisi del nostro Paese. Napolitano non è il mio Presidente perché ha svenduto il nostro Paese ai poteri forti di Bruxelles e dell'Unione Europea. Napolitano non è il mio Presidente perché è il vero registro dei governi, Monti e Letta, governi che non sono stati votati dagli italiani e che anzi hanno affamato il popolo italiano e distrutto la nostra economia. Napolitano non è il mio Presidente perché è il capo di uno Stato che ha 100 miliardi di euro di debiti nei confronti delle nostre imprese che falliscono per colpa di uno Stato che non paga i propri debiti ma pretende le tasse. In questo contesto, da incubo, Napolitano parlano i giorni di indulto, di amnistia, di diritti degli extracomunitari. Mentre Napolitano pensa ai diritti dei cacerati e degli immigrati, chi pensa ai diritti degli italiani? Chi pensa ai milioni di disoccupati italiani delle loro famiglie che non arrivano alla fine del mese? Chi pensa agli imprenditori del Veneto e del Nord-Est che si ammazzano per le troppe tasse o perché lo Stato italiano non paga i propri debiti? Caro Napolitano, lei non potrà mai essere il mio Presidente.